Carissimi spettatori, bentornati su Apex Legends! Non ci crederete mai, ma oggi ho per voi una vittoria! Modalità coppie sulla mappa confini del mondo. Non so come abbiamo fatto, ma abbiamo vinto. Abbiamo anche fatto un numero rispettabile di uccisioni, dai! A proposito, piccolo avviso, se sentite che la mia voce è diversa durante la partita è perché ho usato il microfono delle cuffie da gaming al posto di quello fisso che uso di solito. Detto questo, buona visione! Dai, fra cinque uccisioni di squadra, e la considero un video leggendario, guarda! Già se riuscimmo a farne... Guarda qua, guarda la nostra competizione! Cioè, veramente, guarda! Ma il problema non è lui, il problema sono tutti gli altri! In effetti! Namo, solito posto? E' Namo! Centrale elettrica? Sì! Dio, sarebbe comodo se ci fanno vedere il cerchio prima che ce l'hanno, però... Dettagli, Apex, dettagli! Fammi crescere i denti davanti, che ne prego bambino Gesù! Ti giuro, lo so, non sono tanti, però ti prego che io non ne ho più! Comunque, vabbè, fa più urbita del solito perché il tuo microfono ha scoppiettato! Mentre cantavi ti scoppiettava il microfono! Adesso ti faccio scoppiattare io un po'... ...un po'... ...un po'... ...uuh, peacekeeper! ...uuh, pinzello! Ehm, vuoi il devotion? La devozione per Dio non ce l'ho! No, però... ...la mitragliatrice, bro! Ma non è così, grazie! Vabbè, vabbè, la prendo, sì! Fammi crescere i denti davanti, mannaggiamocelo in testa! Prontizio! Arrivo! Non schiattare, ti prego! Arrivo! Dove sei? Craccato! Grande, bro! Oh! Uh, stanno sparando! Uh, qualcuno che sarà! La, 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 la... Eh, la, 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 la... Può dire la, 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 la... La, 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 la... ...ra, dai, pusciamolo, pusciamolo, pusciamolo! Eh, no, che pusciamolo? Non so niente! Craccato! Da, apposta, apposta! Matto! Yes! Siamo a due kill, eh! Due kill di squadra! Avevo detto cinque! Dai, dai, dai! Se può fa! Eh, questo via! C'è l'ascuto! Uh, questo muovo io! Questo muovo io! Ah, post! Lo zaino, kit medico, fenice! Uh, buono! Perfetto! Frate, c'è un trasmettitore di rientro portatile! Alla grande, proprio! Che c'è un trasmettitore di rientro, che? Eh, che, veramente, posso... Nel caso schiatti posso... Esatto, apposta! No, ma magari schiatti te! Mi servirebbe tipo uno scudino! Possibilmente gioco rosso, eh! Rosso mi andrebbe bene, cioè! Già gli scudi blu sono rari, porco, due! Figura del rosso! Infatti, davvero, pare che devo vendere la mia anima... ...a qualcuno! Per averle! Allora, bro! Vediamo dove si chiude il cerchio! Potremmo... No, direi, aspettiamo qua! Anzi, andiamo verso il punto di raccolta, che... Tanto, una maluta là! Ah, comunque, se fai danni alla gente... ...lo scudo si potenzia! Cioè, diventa blu, poi! Quindi sarebbe utile anche trovare... ...una squadra, magari! Oh, gente! Ed è brava a mirare col cecchino! Amo disorientare gli sciocchi! Vedo più a strada! Ah, brava, l'ho preso in testa! Perché io prendo in testa la gente ma non mi evita? Ecco! Uh, mi sa che ce stanno due team, eh! Arriva! Oh, c'è, carcola, sbrigate! Non morì, non morì, arrivo! Eccomi! E' chi è il moto? E' uno alla giro! Visto! Ricarico! Attenzione, granata! Crackata! Ricarico! No, brava, non ci sta... Non ci sta cadendo... ...niente, brava! Doni per la fuga schierati! Cala il sipario! Cala il sipario! Cala il sipario! Stanno a sparare tutte le ische! Mi sto appiastrando, mi sto appiastrando, attento! Stai da solo, eh! No, hai rifatto quella cosa là! Quale cosa? Spariamo gli and due? Eh, lo so! Frate, one shot! L'ho visto! Attenzione! Panello, in un minuto! Ah! Stiamo già nel... No, no! Da me in bocca! Ho battuto uno! Guarda la bastarda! Ricarico! Confermata! Devi schiaccare! Devi schiaccare! C'è l'amico qua su! Craccato! One shot! Dove? Da là! Riccardo, ho finito di queste munizioni, ho! Riccardo! E' un altro me! Apposso! Wow! Aspetta! Aspetta, aspetta, aspetta! Ah, l'hai finito tu? Ok, apposso! Si vola! Porco Giuda! Si! Si! Ho visto assist, pensavo che c'era un altro! Si vola! Si vola! Apposta, apposta, apposta! Grazie, dai, i munizioni... Dammi due secondi! Dammi due secondi! No, ho arancioni e rosse! Ho finito le munizioni per cosa? Ok, ora te le cerchiamo! Quante quelle c'hai, bro? Io ho una! Ahà! No, no, ti dissocio! Quella parola non si usa come insulto! Però c'ho tre assist! Eh, gli assist che c'ete io ce l'ho commutato! Ah, ecco, immaginavo! Comunque se trai munizioni d'assalto, per favore! Quelle celestie, eh? Sì, quelle verde acquina! Ok! Passi, passi, passi! Dammi, dammi, dammi! Un po' secondi, l'annello non è troppo lontano, ce la posso fare! Grande, fra! Ma questo c'aveva il flatline e non c'ha neanche... Vabbè! Io non capisco! Ok, gli scudi stanno... Ma ce l'hai tu, ce l'hai tu colpito d'assalto! No, fra, io c'ho munizioni leggere, munizioni shotgun! Zero proprio! Zero, zero, proprio! C'è proprio niente? Nada! Allora la gente spara senza munizioni! Che c***o! Scudo! Che scudo hai trovato? No, no, gli scudini quelli piccoli per curarsi! Quattro squadre rimaste! Ah, ho quattro... Ah, fra, abbiamo cinque kill di squadra, ora sei contento! Alla posso! Là c'è roba non nuttata, però direi di non andare là subito! Anzi, sì, perché sei io del certo là! Ah, porca miseria! Ah, fra, mamma mia, ne sono uscite 27 scatole del tesoro! Allora, usiamo questa! C'è una torre di lancio qui! Eh, vado a vedere dove vorremmo andare! Dove? È one shot, è one shot! Ah, posso! Ah, sono leader uccisioni! Daie, bro! Ce la fa venire qua su da me? Eh, non credo! Ah, ok, vabbè! No, fra, so il coso quello coso, capito, no? Sì, il coso quello coso! Eh, sì! Eh, leader uccisioni! Non sanno dove siamo! Ah! Ma perché appari sulla minimappa? Ce sa di sì! Ah, di sicuro qualcuno sta là sotto! Dovebbe esserci qualcosa di... Perché, diciamo, è un posto... È un posto chiuso! Tocca capire se stanno in due o... Da solo! Eccolo là! Sì! Là! È atterrato là dentro! Sì! Vabbè, no che esce, porco, due! Faccio rimpiangere il senato! Io direi, scendiamo, scendiamo da qua! Assicurandoci che nessuno ci attacca da dietro! Però mi servono le munizioni, cioè, santi Dio! Questo gioco di m***a! Aspetta, fra, che armi c'hai, che armi c'hai? Eh, c'ho il flatline e il sentinel! Ah, ok! Il problema è il flatline, non c'ho più colpi! C'ho rimasto con 30 colpi e 4 nel caricatore! Ho capito! Va, visto che c'è il cerchino, cerchio intanto di craccarlo da qua! Poi vedo se riesco a pusherlo da solo! A vederlo! Ma è morto! È morto? È morto! Eh, non so se quella già stava là, eh! Non pusher da solo, tu stai! Non sto a pusher, non sto a pusher! L'ho messo nel cerchio! Sono tre squadre! Però c'è, troppo silenzio! Cioè, o so due vizi che stanno da solo... Dobbiamo... Vogliamo provare a entrare! Un bocca da qua tanto, al massimo se può morire tutto il giro! Spari! Va, là dentro! Pusciamo! Puscia! 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 Vai, third party! Third party! Ora che stai raccaccato! Ah, un bocca prepotente! Che stai fa? Armazione, c'è schiatto io! È craccato? Uno fatto! Uno fatto! Uno fatto! Uno fatto! Fallo, fallo! 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 Oh mio Dio! Finalmente! Perché a me ti ripugni? Perché sono contento! Spettatori, spettatori, è fatta Mamma mia Prego spettatori, ecco a voi una vittoria Ce l'abbiamo fatta Mamma mia